Si svolgeranno oggi alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco alla presenza del capo dello Stato a Mattarella ai funerali dell'ex leader democratico Ciriaco De Mita, morto ieri a 94 anni. L'ex presidente del Consiglio e segretario della DC è morto nel centro di riabilitazione Villa dei Pini di Avellino dove era ricoverato dopo un intervento per una frattura al femore. Presidente del Consiglio tra il 1988 e 1989, più volte ministro, protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana dal 2014 era sindaco di Nusco, suo paese natale.